L'inceneritore inizia ad incombere sul Lodigiano. Nella sede della provincia via Fanfulla Lodi si è svolta la prima seduta della conferenza dei servizi sul progetto di ampliamento dell'inceneritore di Castiraga Vidardo, comunità ad un passo da Sant'Angelo a Lodigiano. Come è andato l'incontro? Così era una conferenza preliminare, quindi il percorso è ancora lungo, articolato e complesso. Noi abbiamo dato semplicemente un messaggio molto semplice perché in questa circostanza non si poteva fare politica ed invece quello che noi dobbiamo anche fare al di fuori di quella sede o lo faremo anche in quella sede quando ci sarà il momento della valutazione dell'impatto ambientale quindi si entrerà eventualmente in altra circostanza. Quello di oggi doveva decidere di chi era la pertinenza e la competenza. Quello che abbiamo bisogno e che noi abbiamo detto innanzitutto è quello di avere comunque un sostegno e quindi il vostro è una presenza gradita quest'oggi perché ha bisogno di un sostegno anche di comunità perché la politica ha bisogno poi dopo per poter prendere alcune strade di avere un sostegno e una condivisione. C'era una presenza significativa degli amministratori, quindi di rappresentanza territoriale che è stata nel silenzio della presenza un aspetto molto importante e significativo per gli interlocutori. I proponenti non erano presenti con la rappresentanza legale ma semplicemente con una parte tecnica e parte giuridica che dovevano stare dentro il quadro amministrativo. Noi in premessa della riunione abbiamo fatto presente semplicemente una cosa, ritirate questa iniziativa. Quindi abbiamo chiesto di ritirarla perché c'è un territorio, non una provincia, non una persona, un territorio, delle comunità, delle persone, vi dico ritirare perché la roba lì va contro tutti gli interessi territoriali e tutti gli strumenti di pianificazione di cui stiamo realizzando. E questa richiesta è stata fatta come ultimo appello, siccome nei giorni scorsi anche su Mezzostampa si sono detti disponibili a interloquire, ad aprire un dialogo, ecco il dialogo si apre se loro ritirano questo tipo di progetto. Allora la postura e il modo con cui noi interloquiremo anche con voi cambierà e soprattutto si evincerà come dire la faccia vera di questa iniziativa che è un'iniziativa che niente ha a che fare con gli interessi territoriali, niente ha a che fare con la nostra comunità ma che è a vantaggio esclusivo di alcuni che legittimamente dal loro punto di vista perseguono la profittevolità e l'interesse particolare. La seduta è stata aggiornata in attesa di sapere se la società proponente, la Itelium che a sua volta fa riferimento ad un fondo statunitense, intende continuare nel percorso approvativo malgrado l'opposizione netta del territorio sia a livello politico che sociale. Sarà sufficiente? Grazie. Grazie. Grazie.